A Carte 2013 si è fatto il punto sui pagamenti non cash in Italia, quali sono le tendenze in atto? Le tendenze in atto confermano un lieve miglioramento rispetto a quelli che erano peraltro anche auspicati i valori del 2011 e quindi una crescita all'utilizzo delle carte di pagamento, purtroppo rimane ancora un 87% di utilizzo del contante è un fenomeno tipicamente come abbiamo sempre detto italiano, c'è da ben sperare perché l'incremento che noi abbiamo avuto come Sistema Italia rispetto a quella che è la media di crescita europea è da un più 12% contro un 7% appunto a livello continentale c'è da dire che in effetti c'è ancora molta strada da fare perché i paesi tipicamente del nord Europa hanno ancora volumi decisamente superiori, quindi l'Italia è ancora posizionata in una logica di cash society le tecnologie sicuramente sono mature, l'abbiamo confermato, abbiamo avuto conferma di questo anche nel corso del 2012 stiamo avendo ulteriori segnali positivi anche nel 2013 c'è sicuramente una rincorsa a nuovi devices che consentiranno al cliente di essere più confidente nell'utilizzo di questi strumenti secondo me il 2014 potrebbe essere veramente un anno di svolto, comunque l'inizio di un processo di cambiamento molto importante L'anno scorso il consorzio Bancomat ha annunciato un progetto CILES, ci sono novità? Sì, l'anno scorso avevamo annunciato questo progetto che era un progetto fondamentale per il consorzio anche perché era un segnale di ripresa di attività molto importanti confermo che così come in modo ambizioso avevamo annunciato la partenza completiamo il rilascio delle specifiche e quindi l'avvio di una fase operativa che si in qualche modo sostanzierà nella possibilità da parte delle banche per emettere carte CILES PagoBankomat nel 2014 le specifiche verranno rilasciate proprio nel mese di dicembre, nel corso di questo mese e permetteranno quindi alle banche e a tutti gli operatori che intendessero usufruire di questa nuova tecnologia sul supporto di plastica marchiato o brandato come si suol dire PagoBankomat ma di utilizzarlo anche in ambito nazionale Parliamo di futuro, nel 2014 quali aree presidierà il consorzio Bancomat? Allora il consorzio Bancomat ha obiettivi sicuramente ambiziosi anche nel 2014 quindi questa spinta comunque all'evoluzione e alla in qualche modo consapevolezza che c'è molto da fare per aiutare il cliente nell'evoluzione dello strumento carta di pagamento ci sono tre aree fondamentali sulle quali riteniamo sia corretto intervenire in termini di presidio una sicuramente è quella del mobile payment nella sua forma di remote payment o di proximity payment sulle quali sicuramente faremo delle riflessioni, degli studi importanti e ovviamente abbiamo sempre un occhio attento, un'analisi continua su quello che è l'evoluzione del mercato un secondo argomento che da tempo viene in qualche modo caldeggiato in termini anche di intervento è l'online l'online è un mercato sul quale sicuramente dobbiamo fare delle riflessioni importanti anche in termini evolutivi e il terzo che comunque in qualche modo viene anche stato ripreso da logiche governative è quello dei micropagamenti su questo ultimo aspetto bisognerà fare delle riflessioni perché è un mercato ancora non totalmente coperto è un mercato dove l'italiano ancora tendenzialmente rispetto ad altri mercati utilizza solo ed esclusivamente contanti quindi tutte queste operazioni che vengono effettuate sotto i 30 euro rientrano in questa logica dei pagamenti di basso valore a definiti micropagamenti che dovranno in qualche modo essere presidiati nel futuro